1220 per l'ora Venia Fedes, venia! Vai Sara, vai Sara! Scauta! Scauta, scauta! Usa la rapidità in salita, forza! Dai Marta, dai Marta! Brava Laura! Buongiorno! Dai Marta, dai Marta, dai salita, dai! Quindi così? Cosa fanno dai? Ma dietro devi leggere quando c'è appaltante, invece non c'è l'interesse. Basta, è l'interesse. Ciao, ciao! Dai Sara! Dai Cauta! Forza Cauta! Dai Cauta, dai! Dai Sofia! Chiara è passata adesso? Chiara è passata adesso. Una è passata adesso. Chiara non l'ho visto. Ma era più avanti prima di Anna? Che ha fatto? Io ho visto la Chiara e l'Anna, sia qui che là. Chiara, dopo la curva è discesa sei arrivato. Vai Giulia! Dai Giulia! Vai Chiara che ti fai discesa! E' Alice, tutto è discesa! Sì, tutto è discesa! Sì, manca un po' discesa, dai! Grazie a tutti. Grazie a tutti.